Siamo al teatro Stambi di Sloveno di Trieste e vorrei cominciare con la domanda Quale modo questa esperienza ti ha cambiato? La prima cosa che fai è lasciare liberare tutti i freni libitori, per cui sicuramente uno dei primi effetti è che gradualmente inizia a perdere il senso della vergogna. E poi quando ti ritrovi sul palco è una cosa incredibile, quando senti la gente ridere, quando senti le persone applaudire, ma più il riso degli applausi sono delle cose incredibili. Uno spettacolo come questo, che ti porta a morire così tanto, è un'attivazione molto effettiva rispetto al solito? Sì, sì, in un certo senso sì, è un piatto un po' più fisico rispetto a quello semplicemente recitato con la bocca. Sì, abbiamo fatto parecchio esercizio, più con le pro, non è che abbiamo fatto altro di strano. Però sì, la mia parte che si faceva provare ad essere pronti a una bella doccia. E l'avevo spettacolo che vi rappresenta? Cioè, siamo tutti voi? Sì, direi che siamo tutto noi. Siamo praticamente solo noi. Un po', diciamo, in una certa maniera raccontare il viaggio che abbiamo fatto noi proprio dall'inizio, quindi quando ancora eravamo molto impacciati, timidi, così, e per arrivare poi alla fine vera e propria del corso in cui, insomma, eravamo un attimino meno impacciati da meno. Sì, buone esperienze, siete soddisfatti? Molto, molto, sì. Abbiamo avuto un buon feedback dal compito per cui siamo avuti. Bene, allora grazie. Non c'è problema, grazie a te. Perfetto.